Nel momento in cui bisognava colpire la morte, l'Uni-Euro Forlì non ha fallito ed è tornato in Romagna con lo scalpo di Montegranaro. Una gara, quella del turno infrasettimanale di A2, vissuta sempre davanti per i romagnoli, capaci di mandare nel dimenticatoio le ultime due sconfitte senza contare le assenze di Bruttini e Marini. L'equilibrio, va detto, è stato però il filo conduttore di tutti i 40 minuti. Il primo quarto ha visto recitare il 21-30 con la tripla di Rush a far capire le intenzioni di Forlì. L'americano, insieme a Benvenuti, saranno incoronati uomini partita grazie ai loro 23 punti, autori di due prove sopra le righe. L'Uni-Euro scappa sul più 10, poi Montegranaro reagisce e ricucce fino al meno 2, ma la difesa di Forlì non concede altro. Si va al riposo sulle 45-52. L'attenzione massima per gli uomini di Dell'Agnello, si lotta da una parte e dall'altra, ma il comando del gioco è dei biancorossi. Passa però in avanti la poderosa al rientro in campo per gli ultimi 10 minuti. Un film già visto, invece Benvenuti risistema le gerarchie e Forlì si lancia la volata negli ultimi 30 secondi. L'ex Bonaccini sbaglia, Ndoia no e punisce i marchigiani 86-89. Infetto di Hydragia Friature